Se c'è un falso nel prospetto informativo, il prospetto informativo viene dato nei fronti degli sbarmiatori, è sulla base di quel prospetto informativo che sono stati fatti quegli acquisti, quindi sono soprattutto gli sbarmiatori partire in questa vicenda. Falso in prospetto è con questa accusa che la Procura di Arezzo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e l'ex dirigente Davide Canestri. Al centro delle indagini il prospetto redatto nel 2013 per l'emissione delle subordinate poi azzerate dal decreto salvabanche, nel quale, secondo l'accusa, sarebbero stati occultati dati e notizie sulla situazione patrimoniale della banca. L'udienza preliminare si svolgerà il 6 dicembre, ma intanto FederConsumatori sta valutando di procedere con la costituzione di parte civile dei bondisti subordinati che hanno visto andare in fumo i propri risparmi. Quelle persone che hanno fatto quegli acquisti dovranno valutare appunto se costituirsi nuovamente parte civile in questo nuovo filone. Faremo una riflessione, perché dico non è una cosa semplice, perché richiamare delle persone nei tempi che saranno assegnati per potersi costituire non è semplicissimo. Però noi non appena abbiamo le notizie di questo nuovo procedimento faremo un avviso a tutti i nostri associati e chiederemo chi lo può fare, lo può fare e noi gli daremo l'assistenza come l'abbiamo dato per la costituzione di parte civile nel processo generale per il bancarotto e come sapete ha visto l'adesione di 1.527 persone. Intanto sono stati risarciti all'80% circa 2.000 risparmiatori azzerati seguiti dall'Associazione di Consumatori e Aretina che avevano potuto accedere al ristorio forfettario. Proseguono anche i rimborsi per i risparmiatori che avevano invece ricorso all'arbitrato 144 le richieste partite da Arezzo di cui 115 già esaminate. Per i risparmiatori azzerati rimasti attualmente fuori dai rimborsi, uno spiraio potrebbe aprirsi con lo stanziamento annunciato dal governo di 1.500.000.000 di euro inserito nel DEF destinato appunto ai risparmiatori truffati. Dalle fede dottativi leggeremo, se la roba riguarda nuovamente tutti, noi siamo nuovamente in pista, chiameremo nuovamente tutti i nostri associati come il nostro costume, faremo dell'assemblea e diremo cosa serve fare per avere quello che è sempre stato il nostro obiettivo in questa vicenda, farli avere il 100% a chi è stato truffato.